Cosa Nostra continua ad essere l'organizzazione mafiosa dedita al controllo del settore degli appalti, grazie alla complicità di persone che sono ben inserite negli apparati amministrativi locali, dei rifiuti, dell'edilizia e nell'agricoltura, oltre che negli affari illeciti dovuti alle scommesse, allo spaccio dei stupefacenti e dello sfruttamento. Con queste dure parole del Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasinti, si è inaugurato l'anno giudiziario. Il Presidente Vagliasinti ha affermato anche come le organizzazioni mafiose hanno capacità eccellenti di infiltrazioni anche in altre regioni italiane, tipo Piemonte, Liguria e Toscana, e le datate Lombardia e Lazio. Ma si estendono anche all'estero, ad esempio in Germania, dove risultano radicati clan mafiosi di origine ennese e nissena. Il Procuratore Generale di Caltanissetta, Andorino Patti, si è soffermato invece ad elogiare il lavoro del Procuratore Salvatore De Luca, che con determinazione sta guidando la Procura in una monumentale attività di indagine sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, sottolineando lo spirito di abnegazione di tutti i magistrati che lavorano a tempo pieno e con passione, sacrificando la loro vita privata ed esposti a pericolo.